E' stato amputato un braccio al pilota Robert Kubica rimasto vittima di un grave incidente avvenuto questa mattina durante la prima prova del rally ronde di Andorra. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il noto pilota di Formula 1 ha perso il controllo della sua scoda Fabia Super 2000 ed è andato a sbattere violentemente contro il guardrail di protezione a circa 4 km dallo start. Grazie a tutti! 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 Grazie.